buongiorno a tutti oggi darò i numeri no non vi preoccupate non sono impazzito è solo che i numeri sono inconfutabili vediamo come stanno le cose e quali sono i numeri reali alla camera e al senato concentriamoci in particolare sul senato dove la situazione è davvero incerta come potete vedere dalla grafica al senato un eventuale governo pd 5 stelle avrebbe la maggioranza per un solo voto basta che qualcuno diserti stia male oppure che voti contro e il governo potrebbe cadere da un momento all'altro come pensa di maio di poter formare un governo con il pd se i numeri sono questi un suggerimento ce lo dà il grafico che segue state attenti qui possiamo vedere due diverse ipotesi contando solo sui parlamentari dpd e 5 stelle come abbiamo visto si ottiene la maggioranza per un solo voto ma se invece si contano anche gli eletti che si sono iscritti in altri gruppi la situazione cambia il governo godrebbe del sostegno di 173 senatori 12 in più di quelli necessari per ottenere la maggioranza però attenzione parliamo di parlamentari che si ad altre liste per diverse ragioni nel caso dei 5 stelle parliamo delle persone espulse in seguito allo scoppio del caso di rimborsopoli in questa ipotesi comunque con l'appoggio di liberi uguali si arriverebbe a 177 senatori è questa la strada che di maio intende percorrere i numeri dicono che questa è l'unica labilissima possibilità di formare un governo pd 5 stelle non dimentichiamo però che basterebbe che 15 20 renziani votassero contro e il governo cadrebbe all'istante poi c'è un'altra cosa da dire ce la stiamo prendendo tutti con il rosatellum ma secondo un'analisi di utrend la colpa non è la sua i voti si sono distribuiti in modo tripolare questa è la vera causa dello stallo nello specifico il centrodestra cioè il primo polo ha preso il 37 per cento il secondo polo ovvero il movimento 5 stelle il 32 per cento e il terzo polo ovvero il pd il 23 per cento non è certo colpa del rosatellum se gli italiani hanno votato in questo modo ma vediamo cosa sarebbe successo usando altri sistemi elettorali vediamo cosa sarebbe accaduto se le elezioni 2018 si fossero ottenute con un sistema tedesco proporzionale con una soglia al 5 per cento e attribuzione dei seggi su base regionale in questo caso il movimento 5 stelle avrebbe più deputati del centrodestra ma sarebbe comunque lontano dalla maggioranza ma il sistema tedesco non è l'unico proporzionale con effetti premianti per i partiti maggiori infatti ancora più premiante è il sistema spagnolo vediamo allora come sarebbero andate le cose con questo sistema in questo caso la vittoria dei 5 stelle sarebbe ancora più netta aumenterebbe il divario dei parlamentari tra centrodestra e 5 stelle che però non avrebbero comunque la maggioranza passiamo al modello greco che assegna un pacchetto di seggi al vincitore in grecia sono 50 su 300 circa il 16,7 per cento del totale cosa sarebbe accaduto assegnandolo alla prima lista ovvero al movimento 5 stelle il movimento 5 stelle in questo caso stravince ma per avere la maggioranza mancano comunque 20 deputati qualcuno sostiene che con un sistema maggioritario si risolverebbe la situazione ma purtroppo le cose non stanno così vediamo infatti cosa succederebbe applicando il maggioritario puro per eccellenza ovvero il modello inglese in questo caso il vincitore è il centrodestra ma gli mancano comunque 15 deputati per la maggioranza passiamo al sistema francese che prevede il doppio turno in entrambe le camere il movimento 5 stelle sarebbe arrivato al secondo turno nella maggioranza dei collegi ma il raggiungimento della maggioranza non sarebbe stato scontato vediamo alla fine velocemente cosa sarebbe successo con gli altri sistemi elettorali nostrani mattarellum vince il centrodestra ma nessuno ha la maggioranza porcellum il centrodestra avrebbe la maggioranza alla camera ma non al senato insomma se da un lato tentare un accordo di governo con il pd è probabilmente un'ulteriore perdita di tempo dall'altro nessun sistema elettorale avrebbe garantito al paese una maggioranza certa e la colpa è tutta del tripolarismo della terza repubblica un saluto dal vostro matteo di micheli e ci vediamo al prossimo servizio